Come aggiornare tutti i driver audio sul tuo computer quindi grazie al programma driver easy puoi semplicemente andare su scansione fai così la scansione e vedere quanti aggiornamenti devi fare devo aggiornare 10 aggiornamenti quindi 10 disponibili quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina di driver easy come puoi vedere ci sono i tre piani noi andremo a scaricare quello light quello gratuito andiamo a scaricarlo e installarlo è facilissimo da scaricare e installare il programma e quindi il problema è che ci da ci da un limite al download quindi quando andremo poi a scaricare il nostro aggiornamento di 10 megabyte 16 megabyte ci metterà veramente tantissimo sui 60 kilobyte al secondo quindi per fare più in fretta bisogna per forza passare alla versione driver easy pro però io ho scaricato già la versione per farti vedere come installare così questo aggiornamento tu puoi scaricare e installare qualsiasi aggiornamento che vuoi per il tuo computer quindi realtech high definition audio tu devi trovare il tuo dispositivo su gestione dispositivi qua per esempio tasto destro su start qua vai su gestione dispositivi controller audio video e giochi come Nvidia high definition audio però qui c'è scritto realtech high definition audio per farti anche un altro esempio tip link wireless è l'adattatore della scheda di rete wifi quindi se io per esempio vado su schede di rete tip link eccola qua che combace con quest'altra scheda qua dentro su aggiornare i tuoi driver quindi se io adesso vado a cliccare su aggiorna crea manualmente faccio continua installa manualmente faccio continua così facendo mi uscirà così questa cartella con tutti i suoi file all'interno copio così il percorso file faccio copia entro direttamente su tip link quindi faccio tasto destro sopra faccio aggiornare i driver questo è per farti un esempio puoi cercare automaticamente i driver oppure cerca i driver nel computer e qua inserisci il percorso file che hai copiato qua fai avanti installi il tuo aggiornamento oppure cerca automaticamente i driver oppure li cerchi in windows update e dici che i driver migliori per il tuo dispositivo sono già installati quindi a me adesso resta installa quindi devo installare l'aggiornamento per la mia per il mio dispositivo audio quindi vado direttamente a trovare il mio aggiornamento come potete real tracker audio questo qua vado su aggiorna vado direttamente su crea manualmente faccio continua faccio installa manualmente proprio così il percorso file faccio copia faccio aggiornare driver cerco driver nel computer inserisco così questo driver faccio incolla e faccio avanti i driver migliori per il tuo dispositivo sono già installati e faccio chiudi oppure puoi semplicemente sempre fare aggiornare e cercare automaticamente i driver quindi tu grazie al programma driver easy puoi fare una scansione vedere quali sono gli aggiornamenti da fare se hai la versione gratuita e scarichi così l'aggiornamento e lo installi manualmente copiando il percorso file e lo inserisci in uno di questi dispositivi che devi aggiornare quelli che stanno solamente su driver easy e quelli che devi aggiornare quindi se questo video è stato utilissimo su come aggiornare i driver per quelli che vogliono usare l'applicazione gratuitamente quindi come scaricare e installare un aggiornamento manualmente se invece vuoi passare alla versione pro non ti serve gestione dispositiva quindi fai direttamente aggiorna tutto installa tutto e hai fatto quindi grazie a tutti per questa visione iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao